Allora, buonasera. Oggi il secondo incontro del seminario Antinomie enigmatiche, un'introduzione all'opera di Kafka, con il professor Luca Crescenzi, che oggi si occuperà di mitologia apocalittica e filosofia della storia. Ieri il professore si è soffermato sulle antinomie del lessico, diciamo, della struttura logica, diciamo, nel lessico kafkiano, in particolar modo su alcune lettere, la lettera al padre, la lettera a Pollack, illustrandoci appunto come questa, anche la posizione dello stesso professor Crescenzi, che vede appunto questa antinomia, un'antinomia positiva, possiamo dire, nella scrittura di Kafka, che va a distruggere un poco quella che è la concezione dell'antinomia kantiana, come c'è sempre stata presentata. Quindi do volentieri la parola al professore, che oggi inizierà appunto questo secondo incontro del seminario. Grazie. Grazie. Io avevo concluso ieri osservando che per Kafka ogni rappresentazione apparentemente mimetica della realtà può essere messa a confronto ed entrare in una contraddizione indissolubile con l'apparenza della creazione letteraria, cioè la maschera si compone di due apparenze, una che è un'apparente mimesi e una che è l'apparenza specifica del prodotto letterario. Potrei dire ancora meglio, cioè l'apparenza di una realtà inventata dalla letteratura può confrontarsi con una realtà la cui conoscenza diamo per scontata, una conoscenza che presupponiamo, e si tratta di una realtà alla luce della quale leggiamo e non capiamo l'apparenza che la letteratura ci propone. Faccio degli esempi. Pensate all'America del disperso, in cui, l'ho già detto ieri, la Stato della libertà impugna una spada, però poi c'è anche un ponte che congiunge New York e Boston, Chicago rispetto a New York si trova a Est. Questa America di cui parlavamo già ieri è comunque molto diversa dall'America reale, ma l'America reale ce l'abbiamo in testa e quindi automaticamente noi confrontiamo la trasformazione kafkiana con l'immagine dell'America che noi abbiamo. Pensate anche al Tribunale del processo, e questo lo vedremo forse un po' meglio domani, se riusciamo ad arrivarci, perché non sono sicurissimo. Il funzionamento del Tribunale del processo non è riconducibile a ciò che si riterrebbe essere un credibile ordine giudiziario. Quindi la narrativa kafkiana crea sempre dicotomie antinomiche che non ammettono di essere risolti con criteri esplicativi ordinari. Però va chiarita una cosa. L'antinomia non apre uno spazio di indeterminazione, come è stato detto. Dire questo significa semplicemente ribadire che è impossibile ricavare contenuti definiti dalla narrativa kafkiana, e questo è tanto che lo si dice. L'antinomia invece pone prima di tutto il problema dei termini che la compongono, delle determinazioni da cui nasce e dei fatti che ne conseguono. E questi fatti non sono nulla di astratto, derivano dall'antinomia proprio perché l'antinomia non è aggiunta alle cose, è già nelle cose. E se il criterio rappresentativo della scrittura di kafka, se appare frutto di invenzione, se appare maschera, è solo perché ciò che non è letteratura rigetta il concetto stesso di un'antinomia non meno enigmatica che significativa. Allora, affinché la maschera dell'arte possa prendere forma, è necessario che la realtà di superficie, la forma visibile dei fenomeni con cui si misura il nostro intelletto, si unisca con qualcos'altro. Sogni, naturalmente, visioni, libere creazioni dell'immaginazione, ma anche il materiale di saghe, miti, leggende, fiabe, cronache, contenuti del pensiero religioso e, perché no, anche la letteratura del passato. Da tutti questi affluenti, lo si diceva ieri nel corso del dibattito, si alimenta il fiume della narrativa kafkiana che ha di fronte a sé una realtà che non può essere più presa sul serio e che deve essere combinata con questi elementi che sono prettamente letterari, immaginifici, onirici, per creare una realtà che esiste soltanto sulla carta, ma che in quanto esiste soltanto sulla carta è già per questo significativa. Kafka, tanto per fare questo esempio, come si sa, non fa un uso tradizionale del mito, ma nemmeno lo rielabora in un qualche modo tipico del modernismo. Non lo riscrive, non lo trasforma, non lo epicizza. Elias Canetti ha scritto una volta che Kafka non ricorre alle saghe ebraiche e non le usa, ma le continua. Allo stesso modo si comporta Kafka nei confronti del mito. Lo continua fino a portarlo a una conclusione paradossale. L'esempio più famoso, forse, è la breve prosa Il silenzio delle sirene, nel quale si legge, fra l'altro, questo. Per difendersi dalle sirene, Odisseo si riempì gli orecchi di cera e si fece incatenare all'albero maestro. Naturalmente tutti i viaggiatori da sempre avrebbero potuto fare lo stesso, tranne quelli che le sirene ammaliavano già da lontano, ma in tutto il mondo si sapeva che un tale espediente era assolutamente inutile. Il canto delle sirene penetrava tutto, figurarsi la cera. Ma a questo Odisseo non pensava, sebbene ne avesse forse sentito parlare. Ora però, le sirene hanno un'arma ancora più terribile del canto ed è il loro silenzio. È forse pensabile, sebbene non sia mai successo, che qualcuno possa salvarsi dal loro canto, sicuramente non dal loro ammutolire. Qui non metto di nuovo in risalto la struttura antinomica perché è del tutto evidente, ma poi la questione veramente evidente è che c'è un'effettiva continuazione del mito, del silenzio delle sirene, il mito non parla, è una continuazione kafkiana. Allora, qui sono evidenti sia la propensione kafkiana a proseguire le saghe della mitologia spingendole fino al paradosso, come dicevo prima, sia la già descritta struttura a dubitazione doppia, per cui nessuno può sopravvivere al canto delle sirene, ma il mito dice che Odisseo ci riuscì. Quindi il mito dice qualcosa di inspiegabile. Ma men che mai qualcuno può sopravvivere al silenzio delle sirene, se non che la continuazione kafkiana del mito dice che Odisseo gli sopravviverà. Quindi anche lo sguardo più in profondità che la metamorfosi paradossale del mito dovrebbe concedere, si scontra con il suo esito incongruo. Faccio a questo punto il mio principale esempio, cercando per quanto possibile di essere stringato. Io non so se poi avete avuto modo di leggere durante la costruzione della muraglia cinese, se l'avete trovata in rete, ma insomma si trova facilmente un po' dappertutto. Quindi mi scuso se sarò sulla trama del grande frammento abbastanza riduttivo, però è necessario per poter voi poi vedere quali sono le strutture profonde di quel frammento che a mio modesto avviso è il vero capolavoro di tutta la narrativa kafkiana. Allora, se c'è un paradigma mitologico, o forse sarebbe meglio dire un mitologema, che occupa intensamente la cultura del secondo e poi anche del terzo decennio del ventesimo secolo, e non solo in Germania, questo è, come è ovvio visto l'epoca da poco trascorsa, il paradigma apocalittico. La guerra, il senso della fine che percorre in lungo e largo gli imperi e le nazioni del centro Europa, suggeriscono il parallelo che infatti domina ovunque, nelle liriche di espressionisti come Trakl, Van Hoddis o Strahm, nelle invettive di Kakao, sputtardi nei romanzi di Josef Roth, nei dipinti di Franz Marc e Oskar Kokoschka e nelle opere di infiniti altri autori. Rispetto a questi, Kafka ha altri riferimenti. Difficilmente potrebbe accontentarsi della riduzione visionaria dell'apocalisse espressionista e di certo gioca in lui, un ruolo importante, l'interesse che prova per i fenomeni religiosi e per i testi e gli studi sulla cultura ebraica che conduce almeno dal 1911-12, dapprima con parsimonia, poi con sempre maggiore intensità fino alla morte. Però, in questi studi ebraici, è quasi un eretico, benché non sia un lettore vorace, almeno a quanto ne sappiamo, e a volte, anzi spesso, si valga di compensi divulgativi di alto livello, ma sempre compendi, Kafka opera comunque scelte originali, dettate probabilmente dalla sua cultura di ebreo occidentale, ampiamente assimilato. Va bene dunque la guerra, il parallelo che essa spontaneamente suggerisce con un evento distruttivo finale, ne scrive anche lui sotto sotto nei suoi racconti, ma l'apocalisse ebraica è un'altra cosa. Dai libri di storia religiosa e di storia dell'ebraismo che legge, Kafka sa che l'apocalittica è una tradizione eminentemente ebraica, di matrice ellenistica, sì, ma eminentemente ebraica. Tanto che gli studiosi che indagano la continuità fra ebraismo e cristianesimo, e Kafka ne conosce alcuni, concentrano la loro attenzione sul contenuto apocalittico della predicazione di Gesù. La fine del mondo, la resurrezione dei morti e tutte quelle cose lì, già la resurrezione dell'anima, che è quasi, diciamo, una visione eretica in ambito ebraico, sulla predicazione apocalittica di Gesù e sulla sua visione della resurrezione dei morti e dell'avvento del regno di Dio dopo la distruzione del mondo. E questi stessi studiosi considerano questi aspetti come la versione internazionalista, non separatista, e perciò infine più diffusa e addirittura vincente dell'ebraismo, subspecie cristiana. Questi studi gli suggeriscono l'idea di comporre un insieme di racconti che illustrino altrettanti sintomi apocalittici come prove del fatto che l'apocalisse non è un evento che si stia compiendo sotto gli occhi dei contemporanei con la guerra, e naturalmente con tutto quanto ne consegue, ma è una condizione dell'uomo da tempo immemorabile, e che la modernità, ovvero tutto l'evo post-antico, si costituisce interamente come l'episodio di un racconto biblico. Dai suoi studi, Kafka sa alcune cose che gli tornano utili a concepire racconti. Sa, ad esempio, dal romanzo di Alessandro, i cui contenuti gli erano noti da una silloge di saghe ebraiche intitolata La sorgente giudaica. Ora, non so se c'è bisogno che io spieghi cos'è il romanzo di Alessandro. Il romanzo di Alessandro è un romanzo di tradizione ellenistica, nel quale vengono rievocate le gesta storiche di Alessandro Magno, interpolate con una serie di episodi che sono decisamente fantastici. E questi episodi fantastici hanno anche la funzione di mostrare il valore universale delle imprese di Alessandro, della figura di Alessandro e della sua vita in generale. Questo romanzo di Alessandro si diffonde durante tutto il Medioevo, quindi a partire dall'epoca tardo-antica, si diffonde praticamente dall'Etiopia all'Islanda, passando naturalmente per innumerevoli versioni, tra cui importantissima per la cultura ebraica è la versione siriaca. E questa versione siriaca, che è molto importante per i motivi apocalittici che la cultura ebraica riprende dal romanzo di Alessandro, era stata, tra l'altro, pubblicata intorno al 1880, nel 1850 in una traduzione tedesca, nel 1880 in una traduzione più attendibile inglese, poi è stata ripubblicata numerose volte, ma quello che conta è che la cultura ebraica, dal testo del romanzo e dalla versione siriaca del romanzo, soprattutto dalla versione siriaca, aveva estrapolato una serie di saghe, una delle quali, dunque, che tutte sono contenute, tutte o, diciamo, una vasta silloge, sono contenute all'interno del terzo libro di questo testo di cui vi parlo subito, che era a disposizione di Kafka, che Kafka leggeva, che era, si intitolava Der Born Judas, la sorgente di Giuda, che è una grande silloge in sei volumi di saghe ebraiche, e il terzo volume del quale era proprio costituito in gran parte da parti del romanzo di Alessandro suddivise in brevi narrazioni separate, ma contigue e conseguenti l'una all'altra. Ok? Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Allora, dicevo, Kafka conosce sicuramente il romanzo di Alessandro da questa silloge di saghe ebraiche, la sorgente di Giuda, che li riproduceva per brevi frammenti narrativi, che per la cultura ebraica e siriaca, e sapeva che per la cultura ebraica e siriaca, la figura di Alessandro Magno è collegata a motivi escatologici. Se non altro, perché allo stesso Alessandro Magno era attribuita all'impresa di aver rinchiuso i popoli del Nord, Gog e Magog, in una valle di cui aveva chiuso l'uscita ermeticamente, il testo della saga riportato dalla sorgente di Giuda, ad esempio, diceva così Nel corso delle sue spedizioni di conquista, Alessandro si imbatte in un popolo il cui aspetto esteriore destava orrore e raccapriccio. Erano uomini che si nutrivano di qualsiasi essere vivente, mangiavano perciò mosche e topi e vermi di ogni specie, e quando uno di loro moriva, la salma non veniva sotterrata, ma immediatamente divorata. Alessandro pensò di estirpare con la spada quella terribile genia, ma ha preso consiglio con se stesso. Considerò che dei resti avrebbero potuto pur sempre salvarsi e in tal modo la stirpe non sarebbe stata eliminata definitivamente. Per questo motivo li deportò dalla terra in cui vivevano, verso Nord, in un remoto angolo di mondo, un'ampia valle che si trovava fra due montagne, Promunctorium e Boreum. Alessandro pregò poi Dio e disse Ascolta la mia preghiera, o Signore, e rinchiudi qui questo lupo affinché non conduca il mondo alla rovina. Dio ascoltò la preghiera e avvicinò l'una all'altra le due montagne, così che tra di esse non rimase che un passaggio largo dodici palmi. Alessandro ordinò allora di convogliarvi ferro, piombo e rame, riempiendo la fenditura fino alla sommità con il metallo fuso. In tal modo le due montagne vennero unite da una massa che nessun fuoco poteva forzare e quella strana specie di esseri umani vennero inchiusa per sempre. Le montagne unite esistono ancora oggi, sono chiamate rupi di Alessandro, nessun uomo può passarvi per entrare e nessuno può uscirne. Le leggende apocalittiche e in particolare la versione siriaca del romanzo di Alessandro raccontavano però che Dio aveva concesso Alessandro di sapere che un giorno la sua barriera sarebbe stata infranta e quel giorno avrebbe avuto inizio l'Apocalisse, la fine dell'era di Alessandro, dunque, e anche per queste leggende la fine dell'era pre-apocalittica. Aggiungo ancora una cosa, fra i testi che Kafka ha a disposizione per conoscere queste parti o queste saghe tratte del romanzo di Alessandro, c'è un romanzo all'epoca molto famoso di Alexander Kuzmin che è un autore russo diciamo molto letto all'epoca, lo legge in questo stesso libro, lo legge anche Thomas Mann, che si intitola Deskrosen Alexander Staten, mi pare, cioè le imprese del grande Alessandro, e anche in questo romanzo che, diciamo così, riscrive in breve il romanzo di Alessandro, ricompare questa saghe, e ricompare nella versione siriaca. E per la versione siriaca è vero che Alessandro riceve la... cioè è consapevole che dalla barriera che ha eretto non uscirà più nessuno, ma allo stesso tempo sa che un giorno quella barriera sarà infranta e il popolo del nord tornerà a invadere la terra con gli effetti distruttivi che dicevo. Non posso andare oltre nell'esporre i tanti modi in cui Kafka elabora questo tema e per questa ragione mi limito a parlare del fatto più evidente. Se un'apocalissi avviene il primo dato di fatto è che il tempo finisce, perché, come diceva Taubes, se si guarda all'indietro il tempo, il tempo non esiste più. Tutto si orienta verso un'ipotesi di futuro, ma il passato è già scomparso, non c'è più la storia. Parlo quindi del tempo e dello spazio, naturalmente, che sono strettamente congiunti, anche perché il loro trattamento è esemplare per tutte le configurazioni che si assumono in molti racconti e nei due frammenti di romanzo più noti, cioè il processo e il castello. Il tema del tempo è al centro dei cosiddetti racconti cinesi della raccolta Un medico di campagna, vale a dire Un messaggio dell'imperatore e un vecchio foglio, oltre al frammento da cui essi provengono, cioè durante la costruzione della muraglia cinese, e di una brevissima prosa dal titolo Il più vicino villaggio. E io parlerei adesso di questi testi. Dunque, durante la costruzione della muraglia cinese, a cui ho accennato già ieri, è qualcosa di simile a un memoriale o a una cronaca. Colui che scrive è un architetto che ha lavorato alla muraglia a partire dall'età di vent'anni, il quale si è ora ritirato dal lavoro nel sud dell'impero e si dedica soprattutto alla storia comparata dei popoli. Dice così. Nel suo resoconto rievoca i tempi della propria formazione e dell'inizio del suo lavoro alla muraglia, passando però subito a descrizioni tecniche spiegando che essa viene costruita a tratti della lunghezza di un chilometro da due squadre che lavorano al completamento di 500 metri ciascuna, cioè partendo dalle due estremità del segmento, alla fine della loro opera vengono le due parti si congiungono e le due squadre vengono poi spostate da qualche altra parte in modo da nascondere anche agli stessi costruttori la forma complessiva del lavoro. La finalità della costruzione è la protezione dai misteriosi nomadi del nord e già qui il tema del romanzo di Alessandro Echeggia, i quali tuttavia per qualsiasi cittadino cinese sono esseri quasi mitologici e in ogni caso del tutto sconosciuti descritti solo da vecchie testimonianze e rappresentati da artisti del passato in forme così spaventose da servire come spauracchio per i bambini All'inizio del racconto è annunciato il completamento della parte più a nord della muraglia e tuttavia allo stesso tempo vengono messi in dubbio sia la forma sia l'utilità stessa del lavoro perché il procedimento costruttivo produce grandi vuoti attraverso cui i nomadi potrebbero passare facilmente in compenso la possibilità che la muraglia offre di riunire intorno a sé un gran numero di costruttori convinti di compiere un'opera paragonabile per grandiosità alla torre di Babele di far conoscere a quegli stessi costruttori angoli remoti del paese alimenta lo spirito di comunità e di unità nelle sue riflessioni il cronista giunge dunque alla conclusione che un direttivo invisibile e anch'esso sconosciuto abbia elaborato volutamente un progetto inadeguato o meglio tale da essere concepito per accrescere lo spirito di coappartenenza assai più che per difendere l'impero tanto più che spaventati dalla costruzione i nomadi si spostano rapidamente da una parte all'altra e acquisiscono una conoscenza complessiva del progetto maggiore di quella degli stessi architetti affermazione in palese contrasto con la presunta totale ignoranza che avvolge natura e costumi dei nomadi ma come vedrete non è l'unica osservazione inspiegabile anzi il frammento è costituito quasi solo di incongruenze poco meno inspiegabile per esempio è che il costruttore attribuisca al suo resoconto ai problemi che vi fa emergere mero valore storico a suo dire ormai la minaccia dei nomadi è stata scongiurata e questa è una citazione dalle nubi di tempesta da lungo tempo svanite non guizza più alcun fulmine subito dopo il narratore smette i suoi panni di testimone tanto per dirne una delle altre incongruenze se l'avete letto che ne siete accorti lui dice di ricordare i tempi in cui da bambino ha avuto inizio la costruzione della muraglia che adesso quando scrive diciamo che scrive da vecchio diciamo che sia molto vecchio e che ha 80 anni è conclusa nella sua parte più a nord ovvero nella sua parte essenziale perché se serve per difendere dai nomadi del nord quella è la sua parte essenziale peccato che per costruire la muraglia cinese come Kafka sa benissimo da altre letture ci sono voluti 1400 anni quindi è impossibile che l'età di un uomo veda l'origine della costruzione e veda anche l'epoca del completamento anche solo di una sua parte dicevo subito dopo il narratore smette i suoi panni di testimone e veste quelli di etnologo per descrivere gli aspetti più e meno comprensibili delle istituzioni cinesi oggetto di particolare attenzione è l'autorità imperiale che è e deve essere muta e inafferrabile essa non solo è sconosciuta anche a quelle istituzioni che pretendono di essere al corrente dei suoi caratteri ma è soprattutto impenetrabile perché è sempre distante nello spazio e nel tempo dai suoi sudditi la Cina infatti è un impero troppo grande perché possano giungere comunicazioni tempestive dalla capitale o comunque dal centro di emanazione del potere in ogni sua più remota località per cui il rapporto che lega il popolo all'imperatore e più in generale il popolo stesso alle sue credenze non può che assumere un aspetto paradossale entrambe le relazioni imperatore popolo e popolo credenze proprie si fondano infatti su un atto di identica fede ma il narratore non nasconde che l'una e l'altra vagano in un'incertezza totale così come i nomadi sono solo l'oggetto di leggende e raffigurazioni fantastiche tramandate e credute ma non comprovate da alcuna esperienza nessuno li ha mai visti l'imperatore è un'autorità indiscutibile e assoluta ma la sua identità è incerta almeno quanto lo sono le leggi da lui emanate che arrivano con decenni o con secoli di ritardo alla periferia dell'impero lontano dal centro dell'impero accade dunque di riservare assoluta devozione a imperatori morti o deposti da lunghissimo tempo e si obbedisce a determinazioni cadute ormai largamente in disuso perché ogni notizia da Pechino giunge quando la realtà e l'autorità da cui promana è diventata storia esattamente come i costruttori della muraglia ignorano di tutto di essa ma eseguono la parte di lavoro a loro di volta in volta assegnata da una gerarchia imperscrutabile i cittadini delle remote province meridionali si affidano a indicazioni che ritengono assolutamente valide pur nella coscienza di obbedire a imperativi probabilmente obsoleti e comunque non ascrivibili a un ordine perscrutabile la conseguenza è dunque che le comunità di cui rende testimonianza il narratore vivono in una condizione di sostanziale e inconsapevole anarchia pure obbedendo tassativamente a qualsiasi disposizione giunga le loro orecchie e sono devotamente subordinate all'autorità imperiale pur ignorandone del tutto l'identità presente che da una rappresentazione del genere potessero sorgere tutta una serie di interpretazioni metafisico-esistenziali in cui ricorrono motivi sempre verdi come il silenzio e la morte di Dio è però più che comprensibile ma il punto è che a capovolgere completamente il senso della cronaca del costruttore arriva nella successione dei quaderni in ottavo e solo nella successione dei quaderni in ottavo cioè in quei quaderni in cui Kafka scrive queste storie la vicenda narrata in un vecchio foglio il racconto in cui i nomadi esistono sono diventati improvvisamente una realtà e persino l'imperatore ha assunto un corpo e una forma rendendosi visibile almeno in parte ai suoi sudditi anche se solo per un istante anche se solo dietro una finestra questo colpo di scena un colpo di scena formidabile ripeto affidato da Kafka solo al segreto del manoscritto cioè praticamente il grande frammento della muraglia cinese si interrompe a un certo punto Kafka abbozza una piccola continuazione poi la interrompe scrive un titolo Ein altes blatt aus China un vecchio foglio dalla Cina poi cancella dalla Cina e ho spiegato ieri perché e comincia questa cronaca dell'invasione dei nomadi nella città di Pechino quindi è chiaro che è successo qualcosa cioè sorge spontaneo l'interrogativo uno se l'invasione descritta dal racconto si debba intendere come precedente o successiva alla costruzione della muraglia cioè se la muraglia serviva a impedire l'invasione dei nomadi quando è avvenuta questa invasione quando la muraglia ancora non c'era o quando la muraglia c'era poiché si chiama un vecchio foglio sì diciamo un vecchio foglio forse sarebbe più corretto tradurre un antico foglio mi viene in mente adesso ma insomma è un vecchio foglio non c'è specificazione di data non si sa da quando provenga e quindi noi non sappiamo se la muraglia era in piedi o no non sappiamo dunque se l'invasione sia precedente o successiva alla costruzione della muraglia e quindi se il foglio che la racconta sia uno di quei documenti spaventosi che i cinesi descritti dal cronista leggono con raccapriccio in quanto testimoniano dell'aspetto e delle azioni a loro altrimenti sconosciute dei nomadi o se sia il documento sopravvissuto di una catastrofe che ha avuto luogo nonostante la costruzione della muraglia medesima ovvero nel momento stesso in cui si era intenti erigere le difese per prevenirla oppure addirittura se non sia una delle leggende di cui pure parla il costruttore sia una saga una di quelle leggende che si raccontano per spaventare i bambini che cosa sia un vecchio foglio noi non lo sappiamo adesso devo spiegare una cosa quando Kafka scrive questi racconti c'ha sul tavolo la casa dove scrive è piccolissima non so se l'avete mai vista sono circa 12-14 metri quadri quattro pareti scarse perché due sono occupate da finestre e quindi non può portarsi dietro molti libri per tante ragioni non può portarsi dietro neanche dei quaderni molto grandi quindi scrive su questi famosi quaderni in ottavo questo libro però che si tiene sulla scrivania e questo credo si possa dimostrare in modo piuttosto incontrovertibile è la cronaca di un esploratore dell'Asia centrale un importante esploratore svedese che si chiama Sven Hedin e che contiene la cronaca di un'esplorazione dell'Asia in cui avvengono delle scoperte fra le scoperte di cui parla Hedin da lui effettuate c'è la scoperta di 1250 documenti di carta tra le rovine della città di Lop-Nor e quindi è ragionevole che Kafka faccia riferimento proprio a qualcosa di questo tipo un documento trovato fra le rovine di un'antica città tenete presente che alla fine di Ein Altesblatt Kafka tira ancora una riga e scrive questo diciamo questo testo c'è stato messo a disposizione da un amico amante dell'avventura quindi diciamo quasi attribuisce il 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 resoconto a un esploratore o comunque sia forse a quell'esploratore che è proprio Sven Hedin ma questo non è importante è importante soltanto per dire che c'è qualcosa anche di concreto c'è qualcosa di reale che sta dietro questa grande fantasia cinese di Kafka ricordo sempre che la Cina c'è solo nel manoscritto dei racconti Kafka cancella tutti i riferimenti alla Cina quando poi pubblica sia un messaggio dell'imperatore sia un vecchio foglio nella raccolta compiuta quindi dicevo la questione del quando si è avvenuta questa questa invasione di cosa rappresenti questa descrizione se sia un fatto reale o immaginario se preceda o segua la costruzione della muraglia è cosa che possiede indubbiamente un suo fascino ma ne assume uno ancora maggiore se la si considera nel quadro del paradosso precedentemente descritto cioè se nell'immenso spazio cinese l'età di un messaggio di una comunicazione non è in alcun modo determinabile allora l'invasione di cui parla il vecchio foglio può avere la consistenza di un mito essere letto quindi come tale ma con la stessa identica probabilità può essere la cronaca di un evento realmente accaduto o addirittura ancora in atto il quale agli occhi di chi lo legge non ha più che la consistenza di una leggenda o di una favola inventata quindi non c'è più distinzione perché non è appurabile fra fatto e leggenda e non è più appurabile nemmeno il tempo del fatto perché quel tempo non è più misurabile è chiaro che il caos nelle relazioni di tempo è totale e in questo disordine cronologico si comprende anche perfettamente la funzione che un messaggio dell'imperatore ha chiamato a svolgere nella logica di sviluppo dell'insieme dei racconti pur precedendo un vecchio foglio nella raccolta esso è collocato dopo la cronaca dell'invasione secondo un calcolo narrativo molto efficace nella raccolta di racconti nella raccolta di racconti un medico di campagna cioè nel complesso di quella raccolta sparito il contesto cinese dei racconti l'effetto di sorpresa non è più prodotto dal fatto che mentre noi eravamo convinti che un'invasione dai nomadi al nord non sarebbe mai avvenuta subito dopo ci vediamo la cronaca di quell'invasione l'effetto di sorpresa nella raccolta è prodotto da un altro evento inusitato l'imperatore ha parlato e benché in punto di morte ha inviato un messaggio a un suo suddito nella logica che allinea il nuovo avvocato un vecchio foglio e la saga imperiale adesso il nuovo avvocato è quello in cui compare Alessandro Magno cioè il primo racconto della raccolta il senso dell'evento è evidente quale che sia il contenuto del messaggio su cui come dicevo ieri la critica a volte si lambicca il gesto restituisce all'imperatore quel potere di indicare una sua propria volontà e quindi potenzialmente solo potenzialmente ricompone la frattura che lo separa dal potere supremo di Alessandro che è poi quello di dare una direzione al tempo e alla storia proprio per questo però il messaggio non può giungere alla sua destinazione non può farlo perché è il tempo stesso a non possedere più la struttura che gli apparteneva all'epoca di Alessandro cioè prima dell'inizio dell'Apocalissi prima della fine dell'età di Alessandro se all'ordine della storia si sostituisce il caos non esiste più la possibilità di attraversare il tempo e lo spazio in tal senso è stato Giuliano Baioni il nostro grande patriarca a evidenziare il punto che Kafka dissimula dietro l'enfasi posta sul messaggio e sull'impresa del messaggero vale a dire il fatto che la saga non trova il suo senso nel valore del messaggio in sé ma nel fatto che nessun messaggio di un imperatore vivo potrà mai raggiungere il suo destinatario ciò implica per Baioni che si è creata una lacerazione fra tempo storico e tempo presente che implica per un verso un'emancipazione del presente stesso dalla storia e per l'altro la possibilità di esistere soltanto in rapporto alla storia stessa perché non potendosi appurare nulla noi siamo legati alla storia tanto quanto ne siamo emancipati come i cinesi del sud dell'impero se non che sebbene tutto questo sia vero bisogna aggiungere che vivere in rapporto alla storia non è meno impossibile che ricevere il messaggio di un imperatore vivo dando consistenza al presente poiché la storia è diventata a sua volta una saga una leggenda un'idealizzazione e stilizzazione del caos privo di direzione in cui il tempo si è avvitato quando Kafka pubblica la saga del messaggio imperiale fa in modo di far sparire qualsiasi riferimento alla Cina l'ho detto più volte ma in questo modo la saga perde le sue determinazioni specifiche non è più una peculiarità del rapporto del popolo cinese con il suo imperatore con la sua storia a venire alla luce ma una realtà che coincide sostanzialmente con il pervertimento del rapporto fra individuo e tempo in tutta la modernità se il presente di fatto non esiste perché non può stabilirvisi alcuna relazione comunicativa tale da legittimarlo cioè un messaggio non può arrivare allora non esiste neanche più il rapporto con una storia che con il presente costantemente si confonde cioè se non riusciamo a stabilire gli ordini di tempo non riusciamo neanche più a stabilire gli ordini storici questo pensiero se vi sembra molto astratto in realtà non lo è provate a proiettarlo sullo sfondo di quelle riflessioni sulla dominanza del peso della storia della tradizione della memoria che circolano nella cultura tedesca ed europea almeno a partire da Nietzsche e naturalmente a partire dalla sua seconda inattuale nella modernità scriveva Nietzsche l'oblio è impossibile perché tutta la storia è ripresentata di continuo nella sua attualità questo significa che ogni distinzione fra presente e passato diventa vaga persino inconsistente e la forma del presente è disegnata da amministratori del passato i quali distinguono arbitrariamente le sue epoche e le sue fasi ne denominano le età e i periodi ne trascelgono esempi e termini di paragone mediante i quali instaurano la falsa sicurezza di un presente protetto dalle catastrofi del passato fornito di un'autonoma fisionomia ora di questa idea Kafka offre se possibile una versione ancora più radicale la storia infatti non è amministrazione del presente per mezzo della manipolazione artificiosa del passato non lo è per il semplice fatto che nemmeno la distinzione fra presente e passato è più possibile laddove a dominare solamente il caos poiché esistono soltanto messaggi dell'imperatore che mai potranno raggiungere il loro destinatario il presente è certamente un'incognita ma il passato è comunque una finzione costruita sulla base di una totale assenza di certezza detto altrimenti lo storico non è per così dire il messaggero giunto in ritardo ma con un messaggio incontestabile è invece colui che sostituisce all'incognita del presente una leggendaria rappresentazione del passato e coloro che aspettano il messaggio imperiale sono gli stessi che devono intanto accontentarsi dei simulacri artificiali con cui i diligenti cultori della storia mascherano il disordine del tempo questo tema per inciso è evidentemente sviluppato nella muraglia cinese in cui il narratore infarcisce la sua cronaca di affermazioni inverosimili una ve l'ho già esposta in precedenza il caos del tempo ha per lui l'immagine rassicurante della microscopica realtà cui riesce a dare l'ordine di una narrazione ma persino quella narrazione ai tratti di una saga di una finzione della tradizione che ha il solo scopo di fornire un'immagine ordinata del passato fra le tante incongruenze del suo racconto ce n'è una forse la più evidente che chiarisce fin dall'inizio come la sua intera costruzione sia incredibile è quella che citavo poc'anzi la prima frase del frammento dice la muraglia cinese è stata completata nella sua parte più a nord ma più avanti il cronista spiega di essersi ritirato nella parte più meridionale dell'impero dove i messaggi provenienti dalla capitale non giungono giungono con immenso ritardo quindi come può sapere che la muraglia è stata conclusa e addirittura nella sua estremità settentrionale quanti millenni ci ha messo il messaggio per arrivare nel sud della Cina semmai quella notizia gli è giunta a quando risale e chi potrebbe mai confermarla visto che nessuno dei costruttori a quanto dice lui stesso possiede una visione generale del progetto il senso dell'incongruenza tuttavia non è mettere in dubbio la buona fede del narratore ma mostrare i limiti insuperabili di ogni testimonianza e rappresentazione della storia la quale costruisce simulacri con strumenti approssimativi per tale ragione è importante notare che il cronista parla delle pochissime cose che sa o di cui è venuto a conoscenza in momenti diversi non necessariamente congruenti e indistinguibili da fantasie invenzioni o leggende anche lui per quanto si sforzi di discernere criticamente fra le cose che sa e quelle che ha appreso imbastisce una narrazione fiabesca del passato per colmare il vuoto del presente da ciò consegue che la sua posizione come storico e come cronista è quella stessa che gli toccava come costruttore della muraglia legato a quello che può vedere o apprendere della realtà in cui ha vissuto come ai 500 metri per volta che ha costruito non è e non sarà mai in grado di possedere una visione complessiva di quella realtà che invece racconta immerso nel caos del tempo non ne possiede un'immagine totale e allora trasmette alla posterità quell'insieme di informazioni che è riuscito a imbastire alla meglio nella periferia dell'impero in cui si trova e cerca di conferire loro la dignità di una cronaca ma in questo modo l'ordine della visione individuale si è sostituito al disordine del tutto e poi dovrei ritrovare il punto a cui era arrivato l'ordine della visione individuale si è sostituito al disordine del tutto e il tempo sembra ancora scorrere lineare mentre è già avvenuto o sta per accadere l'evento che lo stravolge completamente la storia insomma non sarebbe altro che una colossale semplificazione sovrapposta come una maschera sempre la maschera a ciò che come caos si oppone per definizione alla semplicità e che però costituisce il volto irriconoscibile del tempo nello stato di soglia in cui la realtà si trova da tempo immemorabile benché ormai il tempo sia soltanto un'ipotesi la storia del messaggero dunque capovolge l'assunto del silenzio imperiale che è l'argomento essenziale del vecchio foglio ma pur facendolo perviene alla stessa conclusione del racconto non può esserci difesa dal caos perché è il caos l'unica realtà consistente anzi il viaggio disperato del messaggero è lo sforzo di ripristinare il nesso fra verità e storia perduto fin dai tempi di Alessandro Magno se il suo messaggio potesse giungere basterebbe da solo a spezzare il disordine del tempo proprio perché lo ha attraversato quindi ci sarebbe un tempo attraversabile si costituirebbe dunque un ordine opposto al confuso stato del reale e potrebbe da esso rifondarsi un universo di senso ma questo non è possibile perché le ragioni di quello stato risiedono fuori dal tempo della storia e ne condizionano l'invalicabile assenza di forma così il tempo si costituisce nella coscienza individuale come tempo soglia tempo di un'attesa che però anch'essa è illusoria perché non può fare altro che arrendersi alla pura e semplice inesistenza dell'evento questa forma del tempo che è insieme caotica statica e priva di distinzioni plausibile perché passato presente e futuro sono diventati una sola e unica cosa è come facilmente intuibile la stessa forma che il tempo possiede nel processo e nel castello in entrambi i romanzi non è solo la forma frammentaria a tenere i due ca lontani dal cuore del tribunale o del castello è la stasi del tempo a non permettere loro di avanzare perché se il tempo della storia ha smesso di segnare il ritmo del mondo non c'è altro orizzonte d'attesa che il tempo della fine e allora spero diciamo che questo diciamo complesso di motivi che lega un'idea di post storia apocalittica e di finzione della storia come finzione di un tempo ordinato attraversabile costituibile non è un'astrazione kafkiana non è una cosa che si è inventato così dal nulla è proprio quell'antinomia che contrappone il nostro concetto ordinario di tempo a questa immaginazione letteraria di un tempo assente che ha effetti su di noi ha effetti su di noi perché lo storico si rapporta a questa assenza di tempo anche nel nostro mondo inventando un tempo cronologico inventando un tempo ordinato inventando una storia fatta di contenuti di fatti di documenti ma in realtà qualsiasi storico ricostruisce e costruisce un'immagine della storia sempre e solo a partire dal suo io sempre e solo a partire da ciò che la sua individualità riesce a mettere insieme in termini di fonti di documenti di pezze d'appoggio per un racconto che è poi un racconto puramente fantastico perché il tempo che la storia racconta non c'è spero di essere stato sufficientemente chiaro quindi una raccolta scusate una diagnosi assolutamente coerente congiunge tutti i racconti di cui si è parlato dal nuovo avvocato che è il primo racconto della raccolta un medico di campagna in cui appunto ricompare Bucefalo il cavallo di Alessandro ma adesso ha assunto le sembianze di un avvocato e come fa a ricomparire il cavallo di Alessandro sotto le spoglie di un avvocato sembrerebbe un'invenzione assurda e infatti non mancano gli interpreti che dicono beh non è veramente così non è che Bucefalo è diventato un avvocato è un'invenzione ironica e io odio quando la gente non prende sul serio le cose e dice vabbè è un'invenzione ironica questo può succedere perché se non c'è la storia viviamo in una simultaneità tale per cui anche un cavallo può ricomparire un cavallo mitologico storico ma diciamo di così di leggendaria costituzione può ricomparire nel presente e ricomparire persino sotto diverse spoglie perché nulla più è ordinato né ordinabile e dunque il tempo si è schiacciato in modo tale che tutto ricompare continuamente la raccolta Un medico di campagna è costituita così che il primo racconto è questo in cui Bucefalo ricompare sotto spoglie umane l'ultimo racconto una relazione per un'accademia racconta di una scimmia che è diventata uomo per un puro atto di volontà naturalmente si possono fare tutte le considerazioni di questo mondo si può dire che è assurdo che Bucefalo diventi un uomo ed è insomma darwinianamente almeno sensato che una scimmia possa diventare un uomo ma certamente non così non certamente bevendo grappa e gridando hello a un certo punto quando decide che è in grado di parlare e soprattutto non può ricomparire l'uomo dalla scimmia mentre ci sono un sacco di altri uomini vivi ma perché questo è possibile sempre per la stessa ragione perché mentre ancora l'umanità è in piena esistenza e sviluppo e crede di avere una sua consistenza nel tempo quel tempo è già finito e ricompare l'origine dell'uomo ricompare fra gli uomini la sua origine il motivo è sempre quello la storia si è schiacciata e si è scacciata per i motivi che vediamo subito allora dicevo c'è una diagnosi coerente a proposito del tempo e della storia che unisce questi racconti dal nuovo avvocato al messaggio dell'imperatore e questa diagnosi riguarda appunto la forma e lo statuto del tempo il tempo non è più un tempo storico per il semplice fatto che la storia intesa come lineare processo di sviluppo ha cessato di esistere e a questa storia si è sostituito un caos stagnante che non conosce né partizioni né direzioni la storia dunque è diventata una finzione la quale si giustifica in ragione del fatto che è esistito un tempo della storia esistette un tempo della storia ma quel tempo ha ormai avuto fine e può essere ricordato solo come un'epoca leggendaria come l'età di Alessandro Magno che segna il discrimine fra un tempo e un mondo percorribili in una direzione e quelli in cui la confusione è la legge del movimento e la dilatazione è la condizione dello spazio cioè se manca il tempo lo spazio ovviamente si dilata o si restringe all'infinito appare chiaro dunque perché Kafka abbia deciso di aprire la sua raccolta con il racconto che tematizza questa distinzione come il discrimine fra due grandi opposti stati di realtà pensabili nei termini della tradizionale frattura frantico e moderno nei due racconti scritti probabilmente fra i primi un medico di campagna in galleria all'interno della raccolta un medico di campagna la scomparsa dell'ordine conosciuto del tempo e l'impossibilità di fissare i fenomeni in una realtà dotata di una riconoscibile forma sono temi ancora presenti in embrioni collegati a percezioni individuali e intuitive mentre questo tema finisce per congiungere i racconti cinesi alla più breve prosa della raccolta un medico di campagna il racconto il più vicino villaggio che è forse anche una delle prime prose composta da Kafka in vista del suo ciclo narrativo certamente questa prosa è già compresa nella prima lista di racconti appuntata da Kafka nel secondo dei guaderni in ottavo dove reca il titolo che è interessante la brevità e appare in effetti una specie di punto iniziale della riflessione sul tempo almeno di nucleo ordinatore intorno al quale si organizza la riflessione poetica kafkiana è sicuramente per questo dunque che intorno all'interpretazione di questa prosa si è concentrato uno dei più memorabili dibattiti della storia dell'interpretazione kafkiana cioè quello fra Berthold Precht Walter Benjamin Gershon Scholem e Herbert Kraft che ha trovato molti anni dopo un seguito non meno significativo in una coppia di importanti saggi scritti da Stefan Mosès e da Beda Alleman non riassumo i termini della questione almeno non lo faccio ora molto più importante è prendere in esame questo piccolo testo all'interno della raccolta perché è dentro questa raccolta di racconti che va considerato per capirne compiutamente la portata allora il testo in apparenza è costituito da un semplice paradosso e dice così mio nonno era solito dire la vita è sorprendentemente corta ora nel ricordo mi pare contrarsi a tal punto che mi è difficile capire per esempio come un giovane possa decidere di cavalcare fino al più vicino villaggio senza temere che a prescindere dai venti infausti il tempo di una normale vita dal felice decorso non sia di gran lunga insufficiente per una simile cavalcata tutto qua questa è la prosa la rileggo perché deve essere mio nonno era solito dire la vita è sorprendentemente corta ora nel ricordo mi pare contrarsi a tal punto che mi è difficile capire per esempio come un giovane possa decidere di cavalcare fino al più vicino villaggio senza temere che a prescindere dai venti infausti il tempo di una normale vita dal felice decorso non sia di gran lunga insufficiente per una simile cavalcata dunque non c'è nella vita dalla prospettiva del ricordo del nonno il tempo sufficiente per arrivare da un villaggio a quello più vicino ora è persino intuitivo collegare il senso immediatamente afferrabile di questo racconto non solo con le aporie del tempo dei racconti cinesi ma con una buona parte dell'opera di Kafka in particolare con i suoi romanzi maggiori un'infinita serie di passi successivi e inconcludenti imprigionano i due protagonisti del processo e del castello alle loro posizioni di partenza ma è altrettanto evidente che qui l'enfasi è posta su altri due aspetti della prosa il fatto che la sua riflessione aforistica si giustifica solo in una prospettiva mnemonica cioè nella prospettiva del ricordo come Benjamin aveva visto subito e che dunque non possa essere attribuita altro che a una persona aggiunta a un'età avanzata un nonno ora entrare nei dettagli della formulazione dell'aforisma è relativamente facile ma al contempo come ha dimostrato nel suo saggio Stefan Moses non appena si solleva il velo dell'apparente semplicità ci si addentra in una struttura retoricamente complessa e costruita come un sistema di scatole cinesi non priva di trappole la principale delle quali consiste nel rapporto che si istituisce fra la visione del tempo del nonno che inevitabilmente è declinata al passato va bene è un vecchio che declina la questione del tempo a partire dal ricordo a partire dalla dimensione della memoria la visione del tempo dicevo del nonno è quella dell'ipotetico giovane in procinto di compiere la sua cavalcata per il quale al contrario quel tempo si dovrebbe declinare al futuro non al passato che senso ci può mai essere fra queste due visioni del tempo a meno di non voler attribuire a Kafka un procedimento sofistico ingannevole a suggerire al lettore che fra di esse non vi sia alcuna differenza bisogna prendere sul serio proprio questa omologazione di due visioni opposte è noto che in realtà il racconto in verità unisce tre prospettive temporali quella del nonno quella del nipote che parla mio nonno era solito dire e quindi riferisce le sue parole e quella del giovane dell'esempio come dicevo prima evidentemente fra la prospettiva del nonno e quella del nipote è venuto a cadere qualsiasi distanza l'uno ripete per quanto è dato sapere le parole dell'altro senza aggiungere loro nulla in tal senso attira l'attenzione il fatto che anche il nipote parli al passato mio nonno era solito dire anche lui considera le parole del nonno da una prospettiva mnemonica rafforzata per di più dal ricordo di un'implicita reiterazione era solito dire sta a indicare che il nipote ha udito più volte il nonno ripetere quella considerazione o altre considerazioni simili le quali comunque nel ricordo si contraggono in una sola formulazione mio nonno era solito dire è solo una frase dunque si potrebbe dire anche il nipote agisce sul piano del linguaggio quella stessa contrazione del tempo che costituisce il senso del discorso del nonno anche lui riduce il continuum della ripetizione a una sola formula statica immutabile del resto il racconto non risponde a una domanda che tuttavia non è indifferente che età ha il nipote nel momento in cui ricorda le parole del nonno intuitivamente è un nipote gli si attribuisce un'età giovanile o forse lo si assimila più facilmente al giovane dell'esempio che non al suo progenitore ma nulla esclude che anche lui riferisca il suo ricordo in vecchiaia quando le parole del nonno hanno assunto anche per lui un valore evidente e non esclude neppure che anche il suo interlocutore possegga un'età veneranda come accadrebbe se il lettore del racconto per esempio fosse avanti negli anni in tal caso il racconto di Kafka avrebbe già il valore di una tradizione del pensiero della vecchiaia e una considerazione simile deve aver fatto anche Benjamin che nella sua interpretazione riteneva la prospettiva del racconto come quella caratteristica dei vecchi per i quali la vita stessa si è già trasformata in scrittura e cioè percorribile a ritroso come un libro si può scorrere a ritroso come se si sfogliassero all'indietro appunto le pagine di un libro questa immagine fissa nel più chiaro dei modi l'ottica dell'aforisma il quale in sostanza dice che vista dalla prossimità del suo punto d'arrivo la vita appare breve tanto breve da non rendere possibile neanche una breve cavalcata in realtà però le parole del nonno muovono dalla considerazione assai più generale e incondizionata che riassume nella formula la vita è sorprendentemente breve quindi non solo il ricordo riduce prospetticamente la durata della vita ma ancora di più svela la vera natura della vita stessa cioè la sottrae all'apparenza del continuum direzionale e quindi se si dà il giusto peso nell'interpretazione alla frase introduttiva dell'aforisma si comprende molto più facilmente perché la visione del tempo della vecchiaia possa riguardare anche il giovane dell'esempio il ricordo è lo strumento euristico che svela che il movimento nel tempo non è altro che una maschera illusoria gettata sopra un tutto omogeneo e indifferenziato che non offre punti di riferimento e men che mai punti di partenza e punti d'arrivo a chi decida di percorrerlo ora questa riflessione che nel racconto pare riferirsi esclusivamente al rapporto fra il tempo e la vita individuale in cui il movimento nello spazio ha una funzione semplificatrice ha invece una portata ben maggiore e se emerge ancora più chiaramente se si dà il giusto peso alla posizione che Kafka ha voluto dare alla sua prosa nella raccolta subito prima del messaggio dell'imperatore ovvero del racconto in cui come sapete l'inconsistenza del tempo misurabile e percorribile della storia viene sottratto a qualsiasi dimensione individuale presentato nella forma di una saga di portata tale da coinvolgere per fine al tempo e la storia stessa del lettore ciò significa che dietro la meditazione aforistica del più vicino villaggio sta il pensiero della saga del messaggio imperiale e cioè che giunta in prossimità della sua fine o se si vuole alla sua età più matura la storia si riconosce nello sguardo retrospettivo della memoria rispetto all'eternità del tempo che si apre dopo la fine stessa come attimo come brevità in altre parole Kafka traduce in un'apparente considerazione psicologica sulla vecchiaia e sul passato un pensiero che riguarda assai più la vecchiaia di un mondo che è o si presagisce prossimo alla dissoluzione in quello stato di transizione immobile che è appunto lo stato di soglia questo stato di soglia non è affatto privo di vita o di accadimenti è che questa vita e questi accadimenti non producono nessuno sviluppo non producono nessun avanzamento nessun movimento sono stati di attesa affioramenti del caos da cui si generano rappresentazioni della fine o dell'attraversamento di un limite incomprensibile e invisibile altro pensiero per niente astratto dietro questo pensiero c'è sicuramente la tradizione della decadence e la sua visione di un mondo esausto che cerca via di uscita da un nichilismo che come avrebbe detto Nietzsche è diventato la sua logica e il suo metodo ma proprio come per Nietzsche questo stato di esaurimento del mondo non è un fenomeno congiunturale legato a una specifica condizione storica bensì uno stato fisiologico di indebolimento connaturato alla realtà stessa delle cose una condizione di indebolimento e stagnazione che conosce sì eccezioni ma perdura sostanzialmente immutato dall'antichità lo stato di soglia di Kafka corrisponde esattamente alla visione decadente di una realtà in disfacimento i cui abitanti ridotti ormai a figure di un caos anarchico individualistico perseguono stancamente i loro rituali individuali e collettivi e sognano di uscire dal loro stato di debolezza attraverso un evento traumatico di tali dimensioni da mettere fine in un colpo solo al passato e aprire una nuova età del mondo di questo tipo di pensieri e di aspettative racconti di un medico di campagna sono pieni solo che Kafka proietta tutto questo su un orizzonte persino più vasto e negativo di quello che affascina i pensatori di tramonto a lui contemporane perché se il tempo della storia ha smesso di segnare il ritmo del mondo non c'è altro orizzonte d'attesa che il tempo della fine e con ciò io oggi avrei concluso però questo significa che domani devo darvi anche la chiave di questo gigantesco pasticcio storico e anche diciamo una chiave diversa di lettura delle temporalità che caratterizzano sia i racconti di un medico di campagna sia in generale la visione del tempo di Kafka e questo deve necessariamente ripassare sia per una breve come dire riconsiderazione dei racconti di un medico di campagna sia per una riconsiderazione del racconto il più vicino villaggio a partire da una prospettiva diversa ho detto che se assumiamo la logica interpretativa beniaminiana tutta la concezione del tempo del racconto si spiega come caratteristica di una visione mnemonica quindi di una visione del tempo osservato dalla sua fine e quindi conferma diciamo così l'idea che un mondo che ha perso la sua storia come abbiamo visto parlando della moraglia cinese possiede del suo passato soltanto una visione postuma noi siamo i posteri della nostra storia noi siamo testimoni del tempo dopo la fine del tempo un'idea simile si trova per esempio a proposito di Kafka in Kundera Kundera dice che Kafka scrive della storia dopo la fine della storia sarei ancora più generico scrive del tempo dopo la fine del tempo ma la fine del tempo significa che siamo entrati in una realtà statica perché è una realtà orientata sì verso il futuro ma perché non possiede più alcun passato quindi quello che ho cercato di dire parlando della moraglia cinese cioè che lo storico è un inventore di storie è l'inventore di una cronologia che non esiste più è uno che ordina fatti secondo un presente passato e futuro che non sono più distinguibili e che non sono più distinguibili perché lui stesso riattualizza continuamente la storia del passato che ritorna nei suoi scritti scritti che non sono altro che leggende dimostrando che l'attualizzazione del passato è pure una finzione tutto questo si capisce in una prospettiva che io diciamo definisco apocalittica per le ragioni che ho detto prima cioè perché Kafka ha dietro di sé quelle letture perché molto probabilmente muove da quelle letture per comporre le sue storie scritte tra il 1916 e il 1917 ma in realtà Brecht in quel dibattito lì sul più vicino del villaggio dà un'altra interpretazione e se noi cambiamo la prospettiva da cui guardiamo a questo brevissimo racconto ma così denso come ho cercato di dire allora cambiano anche alcune piccole cose nella rappresentazione kafkiana del caos in cui il tempo è sprofondato questo significa che io domani molto probabilmente non riuscirò a parlarvi a lungo del processo potrò prendere soltanto una piccola parte del tempo che mi ero ripromesso di usare però io credo che sia indispensabile su questo tema del tempo dare la visione più completa di ciò che Kafka almeno in una certa fase della sua opera pensa perché è precisamente il problema del tempo che collega Kafka a tutti i grandi scrittori che gli sono vicini a Proust a Thomas Mann a Joyce e potrei andare avanti così per mezz'ora diciamo che Kafka come loro come il Thomas Mann dello Zauberberg che è un grande scrittore della simultaneità è anche lui uno scrittore della simultaneità solo che quella che per Thomas Mann è la simultaneità onirica di un grande racconto sogno per Kafka è la simultaneità apocalittica di un'epoca post-storica e adesso ho finito sul serio ringraziamo il professor Crescenti di questa lezione bellissima sulla concezione del tempo di Kafka che domani quindi ci darà anche delle spiegazioni più nel processo quindi domani affronteremo la concezione del tempo e quindi che rientra in pieno nelle tematiche del novecento sulle concezioni del tempo quindi aspettiamo e apriamo appunto a meno che non mi facciate delle domande tali per cui io nella discussione approfittando della discussione e ho visto che voi siete eroici nelle discussioni e resistete molto a lungo io non vi faccio la sintesi di quello che vi avrei detto all'inizio della conversazione di domani allora recuperiamo un po' dica prego e se viene qui dobbiamo fare tutto uno spostamento di microfoni salve la ringrazio la ringrazio per la lezione in verità io avevo proprio una domanda sulla questione di apocalittica e tempo ma forse non sono sicuro di aver capito un passaggio ed è lei all'inizio citava Taubes e diceva l'apocalittica diciamo mette fine al tempo nella misura in cui l'orientamento lo disfa cioè disfa il tempo disfa la storia e però diciamo poi nella concezione di diciamo che lei ha esposto io non so se ho capito bene questo tempo viene a mancare ed è il tempo che viene a mancare che si disfa completamente da sé come diciamo come apertura del caos che si dà diciamo questa questa diciamo questa possibilità del tempo della fine ossia diciamo di quello che lei ha chiamato apocalittica e la domanda che mi veniva in verità è come fa ad esserci l'apocalittica se il tempo che l'apocalittica elimina sostanzialmente o deve eliminare cioè il tempo storia è già da sé diciamo aperto al caos non so se mi sto chiarando cioè questa questione diciamo non so se diciamo se ho capito bene però come se ci fosse una circolarità tra il tempo che non c'è e apre all'apocalittica e l'apocalittica che per eliminarlo però deve presupporlo come come esistente ecco questa qui è la domanda grazie così forse posso posso spiegare un po' meglio questo punto tutto è intenderci sul concetto di apocalisse Kafka non ha un concetto metafisico di apocalisse evidentemente Kafka ha un concetto di apocalisse come grande strumento interpretativo di uno stato della storia di uno stato del tempo cioè poiché di una storia non vi è più alcuna certezza noi viviamo sempre con lo sguardo rivolto al passato un mondo che vive con lo sguardo rivolto al passato è come se fosse entrato in uno stato di superamento del suo tempo storico la storia si declina sempre e solo al passato poiché si declina al passato è molto difficile distinguere all'interno di questo passato un ordine cronologico tutto si sovrappone faccio un esempio abbastanza semplice qualche tempo fa ci fu un'interessante lezione di Ginzburg alla normale di Pisa in cui diciamo affrontava un problema che è centrale nella problematica della storiografia cioè di cosa parla la storia è soltanto un costrutto narrativo così come ormai diciamo siamo stati abituati a pensare o comunque intercetta un qualcosa che sta al di fuori della narrazione dice qualcosa di vero e lui difendeva fortemente questa questa tesi se non che tutto il dibattito successivo diciamo condotto per lo più da storici fu un sistematico smantellamento di questa convinzione in realtà senza l'esempio più divertente fu questo cioè io ho tre testimonianze di una festa quindi sicuramente c'è stata una festa solo che in queste testimonianze in una dice che ha vinto un certo cavaliere il torneo in un'altra l'ha vinto un altro e in un'altra ancora il torneo non c'è stato per niente dov'è la consistenza di questo passato ogni cronista ogni storico descrive quel po' che può vedere quel tanto di documentale che raccoglie e non può distinguere qualsiasi sia la gerarchia delle fonti che su cui si basa non può distinguere tra ciò che è vero e falso così come non può distinguere tra ciò che è vero e falso non può distinguere all'interno della storia quasi nulla perché non può distinguere quasi nulla se non il fatto che deve esserci stato un passato che se io guardo indietro qualcosa c'è perché nel momento stesso in cui tu vivi tutto si è già trasformato in storia tutto diviene cosciente soltanto a partire dalla memoria quindi il vero tempo della vita individuale è il tempo mnemonico è il vero tempo di un mondo che vive della sua storia che riattualizza continuamente la sua storia non dimenticatevi che il problema è questo la riattualizzazione della storia come diciamo condizione della coscienza del tempo moderno un'epoca che riattualizza la sua storia perde persino la coscienza della esistenza di un passato di un presente quindi vale l'idea che questa storia si è giunta alla sua fine o giunga continuamente alla sua fine o addirittura che la sua fine sia cominciata tantissimo tempo fa che è l'idea kafkiana e che essendo cominciata tantissimo tempo fa finge di scorrere ma in realtà tutto avviene in una grande simultaneità perché il tempo non c'è più quindi l'apocalittica non è una astrazione non è un dato che rimanda grandi visioni escatologiche è un dato di fatto cioè il mondo vive una condizione apocalittica e noi dobbiamo soltanto interrogarci sul rapporto che vogliamo intrattenere col tempo e la storia essendo sicuri che tutto ciò che possiamo dirne è un racconto volto al passato fatto di leggende e di storie e di storie però nel senso di invenzioni di narrazioni questo cioè il tracollo del tempo è dimostrato dalla sua non rappresentabilità dal fatto che non ci sono categorie che lo misurino dal fatto che non ci sono strumenti certi per poter definire la sua direzionalità il suo il suo movimento è come se il movimento fosse esaurito e a quel punto si vive dentro una grande simultaneità questa grande simultaneità può conoscere soltanto un orizzonte d'attesa cioè l'orizzonte in cui tutto sarà veramente finito ma lì c'è un problema cioè per la cultura ebraica in generale per le leggende ebraiche anche per il romanzo Alessandro non è che l'apocalisse questo è quello che distingue Kafka e la sua cultura da quella dei suoi contemporanei l'apocalisse non avviene in un giorno non è un evento catastrofico immediato non è una guerra non è un improvviso cataclisma l'apocalisse è uno stato è una condizione del mondo che tanto per dire dura 7000 anni e che quindi se dura 7000 anni potremmo benissimo starci dentro avviene continuamente ma avviene nel senso che è perché quando il mondo è finito non c'è più un presente e forse ci sarà un futuro ma è una pura ipotesi un orizzonte d'attesa il passato si riduce alle pagine di un libro allo sguardo all'indietro che dura un attimo spero di essere stato relativamente chiaro come ho detto ieri nelle discussioni a me piace molto essere preciso per cui vorrei fare degli esempi concreti potrei farlo ma poi questo ci tira avanti fino a tarda ora una domanda banalissima posso immaginare assolutamente una domanda banalissima tu hai chiuso dicendo parlando di una possibile alternativa fra una lettura beniaminiana diciamo così di questa temporalità di questo dissolvimento della temporalità e un'altra visione possibile per come è richiamato la visione beniaminiana cioè una percezione del passato che è una percezione del tempo che avviene attraverso la rimemorazione non so mi viene la erinnerung erinnerung cioè è sempre una ricapitolazione fa pensare ad un processo che è in qualche modo che ha dei tratti molto legati alla soggettività e a un certo tipo di soggettività mentre l'apocalisse così come l'hai evocata adesso è un qualcosa che sembra rimandare andare al di là del soggetto quindi questa visione della temporalità che Kafka in parte condivide con altri grandi autori della sua epoca e dai quali peraltro si differenzia per la sua specificità è diciamo così tu la leghi al processo di dissoluzione del soggetto oppure ha una sensibilità di tipo specificamente artistico che sottolinea anche un elemento di percezione della temporalità non fa una confusione tremenda no no infatti immaginavo che sarebbe stata una domanda semplice grazie allora se tutti quanti condividiamo una condizione questa condizione attiene tanto al soggetto quanto alla realtà quindi se noi ci troviamo ad essere in una condizione post-temporale diciamo nemmeno post-torica post-temporale ovviamente noi la viviamo su di noi in un certo modo e questo certo modo è una specie di sineddo che è una pars protodo una metonimia della condizione generale in cui versa la realtà quindi diciamo noi ci rendiamo conto del tempo quando ci voltiamo a guardarlo nel momento in cui ci voltiamo a guardarlo è già tardi cioè il tempo è già finito il nostro tempo e allora esattamente come il nostro tempo diventa a noi presente quando ci voltiamo a guardarlo all'indietro e diciamo così come dice Benjamin sfogliamo all'indietro le pagine di un libro la stessa cosa fa il mondo che vive della sua storia perché questo è il punto la modernità vive se ti piace la parola rimemorazione va bene della rimemorazione io direi della continua riattualizzazione della storia ma basta che vi guardate intorno basta che vi guardate intorno ai dibattiti che oggi per esempio si fanno intorno ai conflitti arabo-palestinesi è sempre un guardare all'indietro per cercare di capire il presente e il presente è già scomparso nel momento in cui l'abbiamo incasellato dentro a categorie che sono sembrano storiche sembrano storiche perché poi quella storia non spiega nulla e se le cose stanno così allora in verità non c'è neanche bisogno come dire di immaginare un evento finale che ci costringa a guardare all'indietro quell'evento finale siamo noi noi siamo esseri che vivono di storia alla fine della storia o dopo la fine della storia cioè ci illudiamo che una storia esista ma in realtà costruiamo un simulacro di tempo costruiamo un simulacro di storia costruiamo un simulacro di cronologia per confortarci del fatto che in realtà intorno a noi c'è solo caos cioè il tempo è sprofondato e noi siamo immersi in una realtà che non ha più direzione nel primo racconto ma insomma scusate perché tanto con Kafka è facile scrive poco e quindi ve lo leggo così smettiamo di parlare in astratto di Alessandro nel primo racconto della raccolta Un medico di campagna si dice così basta trovarlo ecco abbiamo un nuovo avvocato il dottor Buzefalus non molto nel suo aspetto ricorda i tempi in cui era ancora il cavallo da guerra di Alessandro in Macedone tuttavia che a confidenza con le circostanze nota qualcosa di recente sulla scalinata ho visto addirittura un semplicissimo uscere giudiziario fissare stupito l'avvocato con sguardo esperto da piccolo frequentatore abituale delle corse mentre questi saliva un gradino dopo l'altro levando alte le cosce con passi che risuonavano sul marmo in linea di massima il Barot approva l'assunzione di Buzefalus con sorprendente larghezza di vedute dice a se stesso che nel presente ordine sociale Buzefalus è in una situazione difficile e per questo oltre che per la sua importanza nella storia universale merita almeno indulgenza vedete questo continuo tornare il problema della storia il Barot cioè il tribunale concede volentieri una sottoscala a Buzefalus perché insomma nella storia lui ha avuto una sua importanza oggi chi mai può negarlo un grande Alessandro non c'è in verità molti sanno uccidere e neppure ci manca l'abilità di colpire con la lancia l'amico di là dal tavolo del banchetto e per tanti la Macedonia è troppo angusta ragion per cui maledicono Filippo il padre ma nessuno nessuno è capace di guidarci fino in India già allora le porte dell'India erano irraggiungibili ma la spada del re ne segnava la direzione oggi le porte sono state spostate in tutt'altro luogo e più lontano e più in alto nessuno indica la direzione molti impugnano spade ma solo per agitarle a caso e lo sguardo che voglia seguirle si confonde questa è la rappresentazione del caos per questo la miglior cosa è forse davvero immergersi nei codici come ha fatto Bucefalus libero i fianchi non oppressi dai lombi del cavaliere con una silenziosa lampada accanto lontano dal frastuono della battaglia di Alessandro e gli legge e sfoglia le pagine dei nostri vecchi libri ora questo è chiaramente forse uno dei più chiari dei racconti di Kafka che è una piccola filosofia della storia in una pagina e mezzo anzi forse poco più di una pagina in cui il vecchio discorso di antico e moderno viene declinato proprio nei tempi di un età della storia contrapposta a un'età del caos e quindi deve in qualche modo esserci una cesura che marca questa questa distinzione il fatto il riferimento ad Alessandro dice sostanzialmente questo che l'età del caos è subentrata dal momento in cui un Alessandro non è più reperibile o almeno non è più reperibile come tale è rimasto il suo cavallo il suo cavallo fa tutt'altro la cosa che sembra tanto assurda agli interpreti è che questo cavallo è ricomparso ma è ricomparso come un avvocato un avvocato che studia i codici e perché studia i vecchi codici perché ha nostalgia del passato cioè ha nostalgia del passato in cui c'era una direzione quindi anche lui si volta all'indietro verso la storia e libero e non è una caratteristica positiva lui vorrebbe tornare sottomesso ai fianchi diciamo alle gambe del suo cavaliere che almeno gli indica la direzione ma siamo in questa dimensione caotica ciò che lui si vede intorno è soltanto il caos e allora come dice il Barò è in una situazione difficile e bisogna avere comprensione per lui perché era abituato a tutt'altro era abituato a una storia che andava verso l'India era abituato a una storia che andava in una direzione quella direzione non c'è più se non c'è la direzione in avanti quella di Alessandro non rimane più che la direzione all'indietro e perché vi sia soltanto la direzione all'indietro deve essere finito qualcosa deve essere finito il tempo questa visione della fine del tempo non è rassicurante come in Fukuyama come negli anni 80 90 c'era la festa della fine della storia è una situazione inquietante perché vuol dire che l'unica nostra aspettativa può essere quella di un superamento della condizione in cui siamo poi Kafka fa degli altri racconti dove cominciano ad apparire esseri strani ce n'è uno non si capisce mai si chiama 11 figli però una grande studiosa austriaca ha avuto una lettura finissima e questi figli sono degli esseri volatili delle specie di uccelli si stanno sono esseri umani che tentano il volo tentano di abbandonare la loro condizione precedente poi c'è Otradek Otradek diciamo un affare che parla che corre fatto sostanzialmente di monnezza cioè fatto di fili di un rocchetto abbandonato di robaccia di residua e anche quello è un esperimento limite dell'umano no? Quelli sono come dire sono apparizioni della condizione di soglia apparizioni del futuro ma insieme a queste apparizioni del futuro appunto come dicevo prima c'è anche la scimmia che ridiventa uomo perché alla fine del mondo questa è la come dire è è lo sberleffo finale del tutto il mondo ricomincia esattamente come prima perché non c'è un mondo migliore non c'è una redenzione questo Benjamin l'aveva capito benissimo quando Sholem cercava di dirgli ma la visione provvidenziale il messianesimo eccetera lui dice ma se c'è in Kafka è vuoto non c'è assolutamente questa questa prospettiva e non c'è l'uomo ricompare dalla scimmia e quest'uomo che ricompare dalla scimmia si fa beffe dell'uomo così come è stato in tutta la sua storia proprio perché ha abbandonato la condizione della scimmia ma anche la scimmia vive l'Apocalisse cioè la la catastrofe rivelatoria della sua condizione di scimmia l'uomo è costretto sempre a abbandonare la sua la sua origine nel momento in cui ritrova la sua origine cioè c'è una circolarità che anche quella è un segnale del caos in cui è precipitato il mondo sì forse una domanda impropria per capire meglio in tale prospettiva sembra che la storia equivalga alla narrazione della storia e se tale narrazione però è fatta sempre nel presente perché è in una direzione quindi retrospettiva e la stessa narrazione non è confusionaria qual è la cesura che stabilisce che dà autorità e oggettività alla storia se la si guarda da un'ottica presente che di per sé stessa è caotica se anche la fonte scritta è posteriore al fatto storico e quindi alla storia stessa è di per sé stessa appartenente a un presente no allora il problema non è la storia il problema è che la storia ce la inventiamo cioè lei giustamente è partita dalla questione del rapporto fra storia e narrazione non c'è dubbio che non può esistere una storia che non sia narrazione e che non sia narrazione individuale cioè non è possibile che esista una storiografia che travalica la dimensione dell'individuo anche se uno utilizza il maggior numero di fonti possibili è sempre tutto ciò che gli consente il suo studio la sua memoria la sua capacità organizzativa il suo lavoro la sua ricerca di dire ma la storia resta sempre condizionata dall'io credo di avervi accennato ieri alla questione del grande stile nicciano vale per la storia esattamente quello che vale per la rappresentazione della realtà criticata da Nietzsche è sempre l'io che sovrappone se stesso alla rappresentazione della realtà lo storico sovrappone se stesso alla rappresentazione della storia solo che la storia vorrebbe essere il contenuto della modernità cioè noi vorremmo essere conseguenze consistenti di una storia di cui sappiamo disegnare lo sviluppo ma non lo siamo noi siamo come dire nelle mani dei burocrati della storia i ricercatori i professori che insomma mettono insieme quattro carte e dicono le cose sono andate così oppure le cose sono andate così ma in realtà è sempre e soltanto un tentativo di descrivere ciò che non si può descrivere e non si può descrivere perché non c'è la storia perché la storia si è dissolta e si dissolve ogni volta che cerchiamo di raccontarla quindi questo mi sembra che le due domande fossero collegate il rapporto fra individuo e storia è in realtà di questo tipo è un individuo che sovrappone se stesso al racconto di qualcosa come il narratore di Bain Bauda Chinesi Chen Mawa cioè io vi racconto vi faccio la cronaca di quello che è avvenuto ma è una cronaca piena di di storture di di menzogne di approssimazioni di abborracciamenti di sistemazioni di quello che non si può sistemare e poi succedono fatti incongrui o i nomadi sono veramente entrati nella capitale ma sarà vero non sarà vero e restiamo come diciamo l'uomo in attesa del messaggio dell'imperatore appunto in una condizione di attesa quindi la condizione di attesa ti dice che esiste solo una prospettiva e la prospettiva è quello che deve arrivare però questa prospettiva di qualcosa che deve arrivare che è la prospettiva messianica è vuota non arriva nulla non arriverà il messaggio dell'imperatore e tu resterai in attesa e resti in attesa perché questa è la condizione di chi vive al di là della storia non può dire qui c'era il passato qui c'è il presente e lì ci sarà il futuro sì intanto grazie ancora professore ha citato Nietzsche anche adesso quindi una domanda un po' più filologica non posso fare a meno non posso fare a meno di chiederglielo qual era qual era l'effettiva l'effettivo grado di conoscenza di consapevolezza dell'opera di Nietzsche in Kafka se è possibile rispondere ovviamente sì no non è possibile rispondere perché noi delle letture di Kafka sappiamo relativamente poco quindi lo possiamo dedurre e ci sono alcune cose che sicuramente richiamano temi nicciani diciamo alcuni studiosi di Kafka sono convinti dell'importanza di Nietzsche per Kafka altri lo sono meno io lo sono molto diciamo sicuramente proprio potrei metterci la mano sul fuoco la seconda in attuale Kafka la conosceva a memoria se no tutto questo discorso sulla storia non gli sarebbe possibile quando scrive non è ancora uscito il tramonto dell'Occidente che comunque è molto differente anche lì non confondiamo Kafka con Spengler perché sono stato accusato di tratteggiare un Kafka spengleriano non è la stessa cosa non è che lui dice c'è un tramonto di una civiltà no no non c'è mai stata nessuna civiltà mi state inventando anche che siano esistite delle civiltà allora vi spiego quello che vi dovrei spiegare domani cerco di farlo nella maniera più pratica possibile nel racconto più difficile che forse Kafka abbia scritto ci sono due racconti che secondo me sono veramente due ossi duri per il lettore uno è un medico di campagna cioè il racconto che dà il titolo alla raccolta l'altro è Indastrafcolonine la colonia penale per tante ragioni che adesso non tocchiamo minimamente in un medico di campagna succedono delle cose che sono molto strane compaiono dal nulla da una porcilaia due cavalli e uno stalliere questo stalliere è un violento allo stesso tempo è uno che aiuta insomma diciamo potrebbe essere qualcosa di simile a un nomade del nord per i cinesi questi due cavalli devono condurre il medico da un paziente a 10 miglia di distanza quando lo stalliere gli dà il via il medico si rende conto che ha attraversato quelle 10 miglia in un attimo anche lì tutte le fantasie del mondo nella ricerca è svenuto è uno stato onirico è un qualcosa che che crede sia avvenuto invece non è avvenuto eccetera eccetera ma se avete sentito quello che ho detto sul tempo è chiaro diciamo che lo statuto del tempo è un po' precario per cui si può anche attraversare uno spazio molto lungo in un tempo estremamente breve vabbè succede quello che deve succedere il medico che è un ciarlatano cioè uno che non sa fare il suo mestiere che si lamenta sempre uno che è tutto un monologo interiore quindi lui pensa continuamente insomma lui è uno sfruttato lo fanno lavorare troppo gli rompono le scatole per nulla il paziente che deve visitare sta bene poi a un certo punto la sorella gli agita davanti un panno sporco di sangue diceva forse sta male trova una ferita grande così insomma diciamo è la storia di un cialtrone che però anche lui non può sfuggire all'intuizione del fatto che qualcosa gli dice che il mondo è arrivato alla fine per cui quando vede il suo paziente per esempio diceva si lo trovai né freddo né caldo ora se uno sente la vera né freddo né caldo sono le parole dell'apocalissi di Giovanni ti ho trovato né freddo né caldo e magari fossi tu stato freddo o caldo invece sei tiepido e per questo ti vomiterò dalla mia bocca va bene che stia citando proprio quello lo dimostra dopo perché nella traduzione della Bibbia di Lutero che Kafka utilizzava tre versi prima l'appello dell'angelo rivolto alla chiesa di Sardi è va e rafforza colui e qui c'è un'interessante diciamo versione della Bibbia di Lutero che der sterben will ora quel will può avere sia valore di futuro der sterben wird oppure può avere valore volontaristico cioè colui che vuole morire diciamo le traduzioni moderne declinano al futuro ma c'è l'ambiguità in Lutero e che cosa dice il paziente né freddo né caldo al medico che lo trova dice lasciami morire e poi ancora anche lì l'ingiunzione è quella di rafforzare sempre nello stesso versetto biblico di rafforzare colui che vuole morire e il medico che si sente investito di una come dire di una funzione divina diciamo di essere lo strumento di una forza superiore che gli ha mandato i cavalli che lo ha spedito lì che gli fa come lui dice gli fa compiere opere sacre dice quando mi avvicino a lui è come se gli portassi la più corroborante delle bevande se non che i termini che Kafka usa adesso non posso entrare nei dettagli filologici comunque in tedesco è Geh und Verstärk der den Sterben will va e corrobora colui che vuole morire cerco di tradurlo così e lui dice quando mi vede lui che vuole morire è come se io gli portassi la più corroborante delle minestre quindi siamo dentro un scenario apocalittico che lo intuisce 2 più 2 scenario apocalittico ha attraversato 10 miglia in un attimo quindi sembrerebbe proprio stare tutto dentro a questa cosa qua alla fine della cura questa strana cura che lui fa del malato cioè in pratica gli dice 4 fesserie però queste 4 fesserie sono diciamo così una rappresentazione charlatanesca e perciò metaforica perché la metafora e l'allegoria sono sempre charlatanesche in Kafka della sua condizione cioè insomma gli dice più o meno che è come un albero che come noi sappiamo non è una grande spiegazione per Kafka lui scappa via vuole scappare perché teme che il villaggio lo voglia aggredire ha sentito un canto minaccioso dei bambini e si lancia tutto nudo perché era stato messo nudo nel letto del malato tutto nudo portandosi dietro i vestiti sulla carrozza dicendo tanto questi in un attimo sono venuti in un attimo torneranno invece i cavalli procedono come un vecchio vanno lentissimi intanto c'è la tormenta di neve quindi lui tutto nudo si perde all'infinito dentro a questo dentro a questo mare di neve e di gelo intanto naturalmente essendo tutto un monologo interiore uno deve porsi il problema da che prospettiva è narrato tutto questo e quindi la soluzione della critica è quella sempre le tre grandi soluzioni della critica sono è ironico è un sogno è una metafora della letteratura queste sono le tre cose aberranti della critica kafkiana in realtà non è un sogno non è ironico non è una metafora della letteratura è che se tu ti perdi dentro un tempo infinito tu puoi anche raccontare al passato la tua storia sei sempre dentro quello stesso tempo è come in 2001 di essere uno spazio tu ritrovi te stesso cioè ti sei ricongiunto col tuo passato e una critica americana geniale Dorit Cohn ha detto è strano anche l'uso temporale che fa Kafka nel nel medico dice dà l'impressione che lui parli in un eterno presente perfetto è esattamente così esiste l'infinito presente in Kafka ma perché non può arrivare in un attimo là da dove era partito a dove era arrivato questa struttura del tempo sta in Nietzsche sta nella prima pagina e nella seconda in attuale l'animale dimentica subito tutto quello che è avvenuto quindi dice Nietzsche a noi sembra una condizione fortunata a lui per lui non è né fortunata né sfortunata non saprebbe dirti nulla per lui esiste dunque soltanto l'attimo che vive l'attimo presente quell'attimo però che è un attimo è contemporaneamente per lui anche tutto il tempo lui non ha altra cognizione del tempo l'attimo è per lui un attimo e tutto il tempo quindi il viaggio compiuto dai cavalli può avvenire nell'attimo o nell'eterno non c'è non c'è altra alternativa e poiché diciamo le figure che compaiono in questi racconti di un medico di campagna sono tutte figure ibride sono tutte figure sono tutte come delle specie di centauri va bene sono tutti mezzi uomini mezzi animali animali antropomorfizzati uomini animalizzati insomma poi qui il discorso si farebbe lungo il senso del tempo che hanno è quello dell'animale ma il senso dell'animale è precisamente quello che corrisponde al tempo di qualcuno che non ha nozione del tempo e quindi siamo già al di là del tempo misurabile cioè diventa misura autentica del tempo come quello della memoria che volta all'indietro le pagine del libro quella dell'animale anche per noi il tempo è un attimo è tutto il tempo perché il tempo non c'è più abbiamo perso nozione del tempo esattamente come l'animale nicciano questo per dire che insomma nicci qualcosa conta dentro dentro Kafka eh sì beh figlia mia no quello veramente io su quello c'ha quattro finali lui si è inventato quattro finali alla fine ne ha scelti una volta uno una volta un altro non è è proprio una cosa si può dire cioè nella colonia penale c'è il classico trucco kafkiana Kafka attira tutta la tua attenzione su una cosa che nel caso della colonia penale è il funzionamento della macchina e tu non ti sei accorto che nel frattempo avviene qualcos'altro cioè c'è stato un cambio di potere sta finendo anzi tramontando definitivamente un potere e poi c'è addirittura la profezia che il vecchio potere ritornerà è sempre la stessa cosa siamo dentro d'altra parte siamo quel giro d'anni là 14, 16, 17 Qualche altro intervento? Comunque tutto questo io l'ho detto per far capire come funziona diciamo l'antinomia che io chiamo enigmatica in Kafka cioè non è un'antinomia vuota non è una struttura su cui poi possiamo meditare per trovare una soluzione quando Kafka scrive in termini antinomici come dire scrive in termini consistenti poi sta parlando di cose concrete sta parlando degli amministratori della storia che ti illudono di avere un passato un presente un futuro sta parlando di coloro che hanno il potere di illuderti sulla realtà perché perché qualsiasi antinomia questo magari lo vediamo meglio domani qualsiasi antinomia proprio perché è un'antinomia proprio perché a te mancano gli strumenti per interpretarla ha su di te un potere esercita su di te un potere l'antinomia del tempo ti sottomette proprio ai gestori autorizzati della storia allora c'è una domanda da casa che tra un po' verrà scritta io invece volevo chiedere una cosa diciamo non so se Kafka si era posto cioè si è posto diciamo con questa concezione del tempo come caos questo questa concezione della storia intesa in questo modo ha per lui valore lo storico cioè qual è il valore che lui dà poi allo storico al valore dello storico al lavoro dello storico cioè è una cosa che come appunto essendo uno scrittore probabilmente non era nei suoi interessi principali però in questo svilire un po' la concezione della storia non va a svilire il valore dello storico allora una delle più famose definizioni canettiane di Kafka è che Kafka è il più grande esperto da Macht esperto del potere non c'è dubbio che lo è io non so se lo svaluti sicuramente colui che amministra la storia ha un grande potere perché è colui che dà forma immaginaria assurda fantastica alla tua visione del tempo e di te stesso lui amministra gli scartafacci gli avanzi i documenti della storia per un fine ben preciso quello di amministrare la tua vita e dire se non conosci la storia quello che ci sentiamo dire da quando siamo bambini la storia va conosciuta perché se no non capisci il mondo intorno a te certo è vero perché chi fa la storia determina l'immagine del mondo che tu possiedi quindi come storico inteso nel senso lo storico alla tedesca no alla alla ranche alla droisen lo storico che ti racconta la verità sul passato no perché poi la verità è stata spostata più lontano e più in alto e quindi non c'era lo storico non c'era nessuno non c'era manco lo scrittore e per questo parla in termini che ci appaiono un po' enigmatici e comunque antinomici ma come uomo di potere lo storico è preso molto sul serio altro che è colui che ha il potere di uno delle figure chiave tra coloro che hanno il potere di indicarti la visione del mondo ragazzi non dimentichiamoci che scrive in mezzo alla prima guerra mondiale dove dove la storia anche come strumento di propaganda ha un valore enorme sentiamo prima quella hai una catastrofe eccoci no temo che sia una specie di fotografia quella che viene fuori io penso che se ricliccate sul però hai ragione forse sembra che state dicendo una volta che la prescia sull'icona sì è stata sulla dove andiamo tra lì e poi adesso però quando io devo andare a scorrere la domanda per leggerla dall'inizio se è capace viene lei a fare forse è un segno sarà morto il collegamento penso che sia caduto il collegamento ma tanto non ci sente se è caduto il collegamento è assurdo il sadness sacro la nasa ostia meno male che è caduto il collegamento sono stato io c'ho un pulsante qua sotto che quando la domanda è difficile vabbè è un segno del destino però credo averla letta a 16 anni credo ah ecco purtroppo è tornato il collegamento aspetta come 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 no sono due domande diverse allora sì grazie domanda l'attualità della storia in Kafka equivale all'exifeness esistenzialistico l'istante esistenziale sovrastorico così come viene formulato da Sartre nella Naus attraverso la relazione antinomica tra Roquentin e l'autodidatta e questa domanda viene da Paolo Andreoni dottorato dottorando in filosofia Unipa e poi esiste una seconda poi c'è una seconda domanda le farei tutte e due esiste la possibilità per Kafka di sottrarsi all'inganno della storia del potere che l'ha prodotta allora entrambe le risposte a mio avviso sono sì io tenderei a leggere la questione istante infinità in termini lovittiani ma siamo sempre diciamo all'interno di una filosofia esistenzialista e quindi con tutti i vari influssi che si possono immaginare tra tedeschi e francesi tra gli anni 30 e 50 quindi da dove poi questa visione delle cose parta difficile dire e comunque non è più che un accostamento suggestivo perché ovviamente Kafka non poteva avere nessuna idea né di Sartre né di Leovitt né degli esistenzialisti né ne frega credo niente dell'esistenzialismo cioè io non sono contrario alle interpretazioni esistenzialiste di Kafka a patto di riconoscere che non possono come dire che 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 basarsi su una su affinità su suggestioni di affinità sottrarsi al potere c'è un solo modo anzi Kafka ne descrive uno molto preciso per sottrarti alla forza devi abbandonarti alla forza cioè devi cedere e su questo potremmo fare un discorso molto lungo eh farsi piccoli insomma la cosa che più piace in questa questa cosa diciamo l'immagine che secondo me è più suggestiva di tutto questo è in in Daffer Scholle in America dove a un certo punto il protagonista Karl Rossman finisce nella casa di un certo Pollund nelle vicinanze di una fantomatica New York e tra l'altro una casa di campagna a un'ora di distanza di macchina dal centro di New York che è quasi diciamo difficile immaginarsela la campagna a quella distanza di New York ma in questa casa c'è una figlia lui si chiama Carl lei si chiama Clara quindi diciamo così un'altra piccola antinomia all'interno del romanzo e questa Clara a un certo punto lo costringe a una lotta e Carla se la ricorda la prima lotta che ha condotto e che lo ha diciamo allontanato dalla sua patria quindi lì per lì tenta di resistere tenta di combattere se non che questa Clara è una è un'esperta di arti marziali quindi lo sottomette sta quasi per buttarlo fuori dalla finestra a un certo punto a Carla viene l'idea dice ma se io cedo non faccio resistenza che succede? succede che quella lotta diventa piano piano un rapporto erotico no? perché nella sottomissione dell'uno all'altro si come dire si configura un rapporto di forze che è analogo proprio a quello dell'eros in cui c'è in cui non è del tutto negativo soccombere ecco diciamo ci può essere un qualche vantaggio anche a soccombere e questa è una delle idee kafkiane cioè se tu vuoi resistere al potere non puoi resistere a una forza superiore non puoi puoi soltanto trovare delle strategie di adattamento e queste strategie di adattamento possono essere cedere farsi piccoli riconoscere il potere altrui nel processo così mi levo un pezzo delle cose che non dico domani c'è come dire il costruttore block che si sottomette fino a diventare un cane dell'avvocato e c'è Josef che resiste sarà Josef a soccombere non block ci sono tre autori che non si possono leggere senza kafka uno è Philip Roth e tra l'altro io avevo una laureata geniale a Trento che aveva capito una cosa fantastica e cioè che il rapporto fra padre e figlia in pastorale americana è l'esatto capovolgimento della lettera al padre che cosa dice kafka dello scrittore se hai uno scrittore in kafka è come avere un terrorista nella tua casa non male l'altro evidentemente è Kundera cioè Kundera è come dire il miglior prosecutore di kafka e poi c'è quello che rifà kafka meglio di tutti che è Murakami Murakami è cioè colui che ha capito certe cose certe strategie e narrative di kafka le ha trasformate diciamo in un prodotto non necessariamente solo di alta letteratura anzi secondo me le sue antinomie sono proprio fra letteratura alta e bassa vabbè ma insomma questo sarebbe tutto un altro discorso e non sono un nepponista ma e penso cioè delle cose di kafka le capisci soltanto a volte se leggi altri io delle cose di kafka credo spero di averle capite se le ho capite leggendo Murakami insomma quando in 1Q84 compaiono due lune in cielo è solo perché tu stai leggendo un romanzo se stai leggendo un romanzo possono apparire due lune in cielo ma devi trarre le conseguenze del fatto che quello che tu vedi è quello che avviene nella letteratura e anche lì c'è quello spazio di cui credo di avervi parlato quella distanza che non si compie mai il messaggero e non c'è il problema di raggiungere il cittadino non c'è più il problema di raggiungere il cittadino ai confini dell'impero c'è il problema di compiere la distanza che separa il messaggero di carta dalla persona reale che sta leggendo che sei tu e quella è una distanza che non si può superare bene c'è uno con una mano alzata disperata come detto no penso ha scritto alla fine ha ceduto ha scritto no ha scritto gli abbiamo chiesto di scrivere ok che rimbomba l'audio in genere va bene e allora ringraziamo un'altra volta Luca Crescenti grazie a voi e ci vediamo domani